Dopo due anni di stop forzato causa Covid, la 24 Ore Castelli si prepara a riportare nel centro di Feltre la voglia di sport e di divertimento. Mancano poco più di 24 ore alla partenza della 24 Ore di Feltre. Come vedete stiamo finendo gli allestimenti qui in centro a Feltre per il circuito in cui si sfideranno 60 squadre e 30 only one. Domani sera dalle ore 21 fino a sabato alle 21 tutti a Feltre per godere di numerosi ospiti VIP. La 24 Ore è una gara di ciclismo a staffetta di squadra che si svolge in un circuito cittadino di 1850 metri completamente chiuso al traffico. Una manifestazione unica in Italia in cui i ciclisti pedalano in un tracciato nel quale sono racchiuse tutte le tipologie di fondo. Si passa dal pavè all'asfalto, dalla salita alla discesa, dalle curve tecniche al piano. Non solo sport ma anche solidarietà. È il caso dello storico amico della 24 Ore, l'imprenditore Renzo Rosso, che con il Team 500 OTB coinvolgerà personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, con l'obiettivo di raccogliere fondi per un progetto a sostegno delle popolazioni ucraine. Dall'inizio del conflitto ad oggi, l'OTP Foundation, la fondazione di Rosso, ha collaborato con diverse organizzazioni per supportare donne e bambini che hanno dovuto lasciare le loro case e raggiungere altri paesi. Il Team 500 OTB sarà capitanato da un volto noto della 24 Ore di Feltre, il vincitore della Milano Sanremo 2006, il campione Filippo Pozzato.